I 75 migranti a bordo della Ocean Viking sono stati salvati due giorni fa mentre erano in navigazione nel mare Ionio a bordo di una barca vela partita da Smirne in Turchia. Il Centro Italiano per il Coordinamento del Soccorso ha incaricato la nave di SOS Mediterranea che viaggiava tra Ravenna e Siracusa di prestare aiuto all'imbarcazione in difficoltà. I sopravvissuti, tra cui 23 donne e 17 bambini, hanno trascorso almeno 7 giorni in mare terminando cibo e acqua. È stato un salvataggio impegnativo, precisa in una nota all'organizzazione umanitaria perché la barca vela era stracarica e rollava nel buio. Le operazioni di accoglienza sono state coordinate dalla prefettura di Taranto. I migranti saranno condotti all'hotspot per l'identificazione e il successivo trasferimento in altri centri. La maggior parte dei naufraghi, secondo la ONG, proviene da Afghanistan, Iran e Uzbekistan.